Dalle prime ore della mattinata, oltre 200 finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Ancona hanno dato esecuzione a 12 ordinanze di applicazione della misura di custodia cautelare di cui 9 in carcere messe dal GIP presso il Tribunale di Ancona, di soggetti indagati unitamente a ben oltre 132 persone per i reati di associazione per delinquere, bancorotta fraudolenta, reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. Il provvedimento è scaturito da un'ampia attività di indagine denominata Operazione Background, partita nel 2017 era caratterizzata da un ingente flusso di denaro travasato da conti correnti bancari o postali riferibili a società di capitali su sopporti bancari riconducibili a persone fisiche e titolari di ditte individuali che provvedevano contestualmente per importi pari agli accrediti ricevuti al prelievo in contanti. Le complesse indagini sviluppate, tra l'altro mediante l'esecuzione di attività tecniche attraverso l'analisi di migliaia di flussi finanziari hanno consentito di acquisire concreti elementi circa l'esistenza di un'associazione per delinquere radicata quantomeno dal 2014 in tutta la regione Marche che ha gestito di fatto 90 aziende tra società di capitali e imprese individuali attraverso le quali sono state emesse fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo di circa 130 milioni di euro oggetto di specifici approfondimenti finanziari a favori di clienti operanti in numerose regioni tra le quali Lazio, Veneto, Campania, Lombardia, Toscana, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Abruzzo, oltre naturalmente le Marche. Solo grazie all'intervento odierno dei finanzieri tale progetto criminale non ha avuto concreta realizzazione. Uno dei filoni della complessa operazione di servizio, nell'ambito della quale sono state eseguite le tracce di ben 130 milioni di euro, riguarda in particolare le condotte penalmente rilevanti di bancorotta fraudolenta derivanti dal fallimento di sette società operanti nel settore commerciale delle pelli e delle materie plastiche con sede nelle Marche, in Emilia Romagna, nel Lazio e in Lombardia utilizzate dal sodalizio. I fondi incassati da queste ultime a fronte delle emissioni di fatture per operazioni inesistenti sono stati progressivamente distratti a favore di altre ditte individuali in entestate a prestanome lasciando le stesse prive delle risorse economiche necessarie per assolvere gli obblighi tributari e quindi abbandonate dopo essere state utilizzate per un ristretto arco temporale. Tali fatti sono oggetto di specifico delle misure cautelari eseguite in data odierna. La somma distratta dalla società fallita e ammonta complessivi 15 milioni e mezzo di euro mentre ammonta complessivi 26 milioni di euro l'ammontare di denaro riciclato. Grazie a tutti.